Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto speciale. Ragazzi, siccome lo scorso anno il video di questa tipologia è andato davvero bene in generale su YouTube visto che me lo state continuamente chiedendo nei commenti, quest'oggi andrò a parlare del team che personalmente andrò a scegliere in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Prima di iniziare, per evitare certe domande, io prenderò Pokémon Ultra Sole e tra l'altro potrebbe arrivarmi addirittura con qualche giorno di anticipo ma non farò il gameplay sul canale, potrei portare alcuni video sporadici questo per il semplice fatto che non possiedo una Capture e quindi mi è difficile fra virgolette registrare. Inoltre ragazzi, per quanto riguarda il team rispetto a Pokémon Sole e Pokémon Luna avevo inizialmente pensato di cambiare totalmente il mio team ma per delle ragioni che poi andrò a spiegare all'interno del video stesso ho mantenuto un unico Pokémon che era presente nel team della volta scorsa. Se ovviamente siete curiosi di sapere che team alla fine ho utilizzato su Pokémon Sole e Pokémon Luna potete tranquillamente andare a vedere quel video che vedrò anche di mettervi nelle schede. Tanto c'è ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi se questi video vi piacciono vi dovete lasciare un mi piace e iniziamo con questo video. Partiamo ragazzi dalla cosa più banale, ossia lo starter su Pokémon Sole e Pokémon Luna avevo scelto prima Rina e io vi giuro ragazzi che io ci ho provato io ci ho provato a farmi piacere in Sine Rormaraga più lo guardo e più mi sale il nazismo e quindi per esclusione il mio starter è stato Desiduai un Pokémon che comunque è sicuramente molto bello un Pokémon che sicuramente è valido che ha però molte debolezze e questa è una cosa che dovrò tenere in conto all'interno della mia avventura. Ho scelto Desiduai come dicevo per non riprendere prima Rina e perché sapete che io ho questo astio per Insine Rore che viene da Pokémon Sole e Pokémon Luna e quindi Desiduai andrà a essere il mio starter. Purtroppo se avessi scelto Insine Rore probabilmente il mio team sarebbe stato diverso e più equilibrato ma ciò mi tocca relativamente poco perché comunque è un'avventura, non è competitive e se anche prendo due Pokémon di tipo Spettro non succede nulla di male. Pertanto ragazzi il secondo Pokémon del mio team visto che ho parlato di tipo Spettro è Mimikyu ragazzi un Pokémon che appena uscì da Pokémon Sole e Pokémon Luna insomma appena venne liccato mi mandò in bestia perché non mi piaceva per nulla poi scoprendolo molto meglio all'interno del gameplay tramite le varie creepypasta tramite le descrizioni del Pokédex l'ho apprezzato a tal punto da inserirlo nel mio team e questo mio apprezzamento ha raggiunto il culmine con la sua nuova mossa Z che sapete io quanto adori sapete che è anche la mia preferita in assoluto tra quelle introdotte in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna ma probabilmente tra tutte le mosse Z e secondo me è un Pokémon che può dare comunque tanto ripeto è un altro tipo Spettro come Desiduai ma alla fine all'avventura diciamo poco importa perché comunque pur sempre l'avventura non è competitive ed è probabile che comunque dopo aver finito il gioco diciamo principale dopo aver battuto la Lega potrei anche se ho voglia cambiare qualche Pokémon nel team o comunque variare diciamo i membri della mia squadra come terzo Pokémon invece ho un altro Pokémon che diciamo fa parte di quei Pokémon che hanno ottenuto una nuova mossa Z come vedete in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna sto parlando ragazzi di Lycan Rock ma quale Lycan Rock? io ho scelto Lycan Rock Mezzanotte ora è bellissimo anche Lycan Rock Crepuscolo come bello anche Lycan Rock Mezzogiorno ma sinceramente da persona cupa quale sono il Mezzanotte c'ha quell'aura di fascino che sinceramente trovo veramente fantastica la mia indecisione su questo Pokémon era dovuta principalmente al fatto che non sapevo se anche Lycan Rock Mezzogiorno e Lycan Rock Mezzanotte potessero utilizzare la loro mossa Z ciò ovviamente si è risolto in una risposta positiva quando sono usciti i trailer dedicati a questi Pokémon e quindi mi sono deciso una volta per tutte a mettere in squadra Lycan Rock Mezzanotte che già ai tempi di Pokémon Sole e Luna avevo inserito come possibile candidato del mio team salvo poi preferirgli Naintex Formalola suppongo ragazzi abbiate capito che in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna sono interessato a scoprire più novità possibili il gameplay che voglio giocare vuole essere un gameplay il più possibile diverso da Pokémon Sole e Pokémon Luna non per altro ma semplicemente per avere una sorta di... belli sti capelli una sorta dicevo di sorpresa o comunque di curiosità nel mentre che gioco e quindi dopo che ho inserito Mimikyu e Lycan Rock con entrambi una nuova mossa Z è ovviamente ragazzi il turno di Komoh il Pokémon tipo Dragolotta che già avevo pensato di inserire nel mio team salvo poi in realtà metterci Lunala senza un motivo apparente perché mi ero rotto le palle di giocare al gioco Komoh che come sapete conosce la mossa Z Dracofonia di Vampante io con questi nomi non ce la farò mai e che è una mossa Z davvero forte oltre ad essere per l'appunto un'innovazione all'interno dei giochi secondo me è anche un Pokémon che grazie alla sua mossa Z potrebbe tranquillamente svipare qualsiasi creatura dell'intero mondo Pokémon e per l'appunto ho deciso di sceglierlo proprio perché comunque inserendo dei Pokémon come Mimikyu ad esempio che è bello è forte ma magari a livello di statistiche pecca un pochino pensavo che per l'appunto prendere un Pokémon che aumentasse le statistiche potesse essere veramente importante per poter diciamo ottenere una sorta di vantaggio in più nella forza bruta ecco inoltre ragazzi Komoh è anche un Pokémon di tipo Drago dovete sapere che io nei miei team ho sempre voluto salvo rarissime eccezioni ho sempre voluto un Pokémon Drago questo perché ritengo che il tipo Drago ora con l'introduzione del folletto è un po' peggiorato ma il tipo Drago è forse il tipo più cosmopolita che esista resiste contro molti tipi ed è efficace a livello normale ha un'efficacia normale potremmo dire contro molti altri quindi secondo me un tipo Drago nel team ci calza sempre a pennello e poi ragazzi il tipo Lotta e poi è figo Komoh dai parliamone cioè è bello è bello Komoh completata la lista dei Pokémon che ho inserito a causa della loro mossa Z nuova e a causa dell'odio per Insiderore passiamo agli ultimi due membri dei quali vi ho già detto che uno è ripetitivo abbiamo ragazzi Araquanid come quinto membro no non è lui quello ripetitivo sinceramente quando feci il mio team su Pokémon Ultra Solo e Pokémon Ultra Luna non presi nemmeno in considerazione Araquanid proprio perché ero molto più interessato a primarina riscoprendolo tramite delle Wonder Battle e comunque riscoprendolo in generale all'interno del gioco e come Pokémon comunque nel suo complesso l'ho utilizzato diciamo anche in Pokémon Sole e Luna delle volte e non mi è dispiaciuto per nulla tra l'altro lo trovo un Pokémon molto carino molto interessante originale un tipo poi tra l'altro Acqua Coleottero che comunque non è un pessimo tipo perché ha delle buone compensazioni diciamo a livello di efficacia e quindi nulla pensavo di inserirlo proprio nel team come Pokémon di tipo Acqua visto che mi mancava ed è sicuramente ragazzi un Pokémon però lento insomma la sua pecca è l'essere lento e sicuramente non dà quella sorta di spinta in più alla squadra magari di velocità potrei utilizzarlo molto di più magari come Stoller un po' con l'esempio che impara Acquanello ragazzi che è una mossa che io adoro e che ho sempre utilizzato anche all'interno del competitive e quindi nulla ho inserito Araquanid anche perché mi piaceva in realtà sostanzialmente come Pokémon non tanto per il Pokémon in sé quanto per l'aspetto avrei potuto prendere anche Golisopod avrei potuto prendere anche Toxapex Wishiwashi non lo volevo prendere perché un'altra delle cose che mi piacerebbe fare in Pokémon Ultra Solo e Pokémon Ultra Luna è provare ad avere il team meno mainstream possibile provare a conciliare un po' tutte le diciamo le idee che ho e comunque quello che voglio dal gameplay quindi ad esempio ho preso Mimikyu che non è molto molto mainstream soprattutto perché non è fortissimo a livello di statistiche ho preso Araquanid che sicuramente è tutto è tutto meno che mainstream ho preso poi Licaroc Komoh e Desidui che sono mainstream a un livello incredibile e ragazzi il sesto Pokémon che sono stato fra virgolette costretto a mettere e che è diciamo ripetente rispetto allo scorso team è il buon Salazzol anche lui Pokémon in realtà molto mainstream avresti potuto sceglierne un altro non avrei scelto Salazzol ma ragazzi siccome poi prendendo Maruak Formalola avrei avuto tre Pokémon di tipo Spettro che bastavano Gastly per ammazzarmi forse forse prendere Salazzol è la scelta più sicura scelta più sicura perché obiettivamente Salazzol tra i Pokémon di tipo Fuoco presenti in questa generazione escludendo Insineroar che per me non è un Pokémon è sicuramente il più forte Maruak Formalola è un ottimo Pokémon però ha delle caratteristiche che diciamo lo rendono un pochino problematico potremmo dire è un Pokémon lento e contestualizzato nel mio team non avrebbe avuto senso metterlo sia per il fatto che è lento e quindi avevo altri Pokémon stralenti sia per il fatto che era di tipo Spettro e invece l'altro Pokémon di tipo Fuoco che è Turtonator è Turtonator è Turtonator e quindi la mia scelta mio malgrado purtroppo perché comunque nonostante Salazzol sia il mio Pokémon preferito di settima generazione avrei voluto cambiarlo semplicemente per avere più varietà nel gameplay è ricaduta proprio sul Pokémon Lucertola di settima generazione un Pokémon che comunque è validissimo non devo stare io qui a dirlo con la sua abilità riguardante il veleno e l'intossicazione possibile anche per Pokémon di tipo metallo e veleno questo Pokémon sicuramente mi darà una mano all'interno dell'avventura e probabilmente tra tutta la lista che tra l'altro ho qui è anche quello su cui farò più affidamento in sé all'interno della trama perché è davvero davvero forte ragazzi se volete un Pokémon di tipo fuoco potente in settima gen vi consiglio assolutamente Salazzle ah ovviamente non l'ho detto all'inizio del video ma il team è composto da solo Pokémon di settima generazione per due motivi in realtà il primo è che mi sembra carino affrontare una generazione con i Pokémon peculiari della generazione stessa il secondo è che io non so bene dove si trovino gli altri Pokémon non so dove cercarli tipo se volessi prendere Arcanine di tipo fuoco potrei anche farlo dove cazzo lo trovo e quindi nulla ragazzi alla fine la mia scelta è ricaduta su questi sei Pokémon fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate di questo team e soprattutto scrivete il vostro team che pensate di utilizzare in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna si lo so forse il mio team non è il team più forte che si possa creare sul gioco ma è il team che personalmente riesce a comparare e a compensare tutto ciò che vorrei ottenere dal mio team e in generale dal mio gameplay quindi novità originalità e un pizzico anche di forza perché Cristo Dio serve e soprattutto no Incineror hashtag no Incineror nei commenti che poi per piacere non ve la prendete perché odio Incineror non ve la prendete io so già che mi metto 300 dislike perché mi fa cagare Incineror non ci posso fare niente mi fa cagare mi fa cagare ok sono un coglione me lo scrivo io così non lo scrivete voi nei commenti e nulla ovviamente ragazzi dopo questa scena imbarazzante vi invito anche lasciare un bel mi piace un commento in iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e soprattutto da Instagram perché su Instagram ragazzi caricherò le varie foto di poco ultra sole e poco ultra luna quindi quando non caricherò dei video di ultra sole e ultra luna cioè sempre probabilmente troverete degli spoiler o comunque degli spoiler non degli spoiler diciamo degli aggiornamenti su come sta andando avanti la mia avventura sperando di fare meglio di poco sole luna che l'ho finito ieri per ultimo vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e dato ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video